Sono queste nanoparticelle il brodo di coltura di molte infezioni, compreso il morbo di Lyme, la borreliosi. Per me è stato particolarmente interessante vedere che questi studi sulle nanoparticelle di alluminio sono finanziate dalla stessa azienda che produce questa miscela per gli aerei. Nel frattempo sono 42 i paesi noti che vi partecipano e in Cina e in Russia vengono usate meno miscele tossiche. In tutta Europa viene diffuso, se sviluppate un occhio, se guardate, ma fate attenzione, oggi c'era un cielo bellissimo ed è sempre bene vedere quando incominciano ad irrorare. Ecco, questi sono i mitocondri che vengono danneggiati, quindi disfunzioni mitocondriali e possiamo appunto constatare la presenza di alluminio nei mitocondri. Sappiamo appunto quello che è il contesto, il nesso appunto fra l'alluminio e tutte queste malattie neurologiche. Questo è un articolo che è stato pubblicato sul tema recente, questo è un'ottima rivista appunto di medicina classica. Qui vedete i tanker jets, geoengineering, la vedete anche queste parole che è la geoingegneria per modificare appunto il clima e anche le precipitazioni e qui c'è l'alluminio. Purtroppo ci sono anche altre sostanze coinvolte, ad esempio metalli radioattivi, uranio impoverito e addirittura appunto degli agenti patogeni che vengono aggiunti. E qui perché? Perché si fa questo? E che cosa si irrora? La cosa più importante o quello che è più dannoso per noi umani, per tutte queste patologie neurologiche, sono delle sfere microscopiche di fibra di vetro che sono appunto rivestite di alluminio, appunto che noi respiriamo. Chi di voi sa? Il più frequente tipo di tumore delle donne, la maggior parte direbbero appunto tumore al seno e le nuove statistiche indicano appunto invece che è cancro ai polmoni e da quando abbiamo smesso di fumare il numero appunto di tumori ai polmoni è aumentato e non è calato. per la decontaminazione e disintossicazione, devo dire alcune cose anche. Ecco, l'alluminio appunto con silica, con silice, esatto. L'importante prodotto viene dalla Russia, costa poco e cioè, e si chiama appunto questo prodotto Enteroskel sì, silicio, acido silicico e molti, molti, chi di voi viene dalla Russia? Ecco, un cucchiaino, tre volte al giorno, fra i pasti e quando si è saputo appunto che in questo modo appunto possiamo togliere l'alluminio dal cervello negli Stati Uniti è stato immediatamente vietato e c'è una ragione per cui Edward Snowden Snowden si è andato in Russia ecco, in questo momento molti sperano nella Russia che la Russia appunto possa assumere un ruolo di leader per una vera idea di libertà non per la pseudo libertà appunto che ci troviamo nell'Occidente ma in una simulazione vorrei molto brevemente trattare un tema scusate, un tema fine e poi fare qualcosa che sia appunto di salubre e di salutare chi di voi viene dal Messico? la migliore ricerca sulla contaminazione ambientale viene da una dottoressa messicana e questa immagine contiene tutto quello che è necessario sapere cioè lei ha andato in una scuola fuori dalla città del Messico e questa è una zona rurale e dove gli agricoltori avevano venduto la terra alla stessa azienda americana appunto che produce appunto quello spray appunto dell'inquinante contaminante dell'aria e questa azienda lì irrora tutti i campi di mais con il loro prodotto con il prodotto che qui posso indicare che è glifosato e il nome commerciale è Roundup che viene anche in Italia usato come diserbante anzi molto usato come diserbante con lo stesso nome tra l'altro anche in Italia e poi ha confrontato questa scuola con un'altra scuola in un'area rurale appunto dove gli agricoltori hanno fatto resistenza e non hanno permesso che i loro campi fossero irrorati con prodotti chimici e nella parte sinistra vedete appunto un'immagine disegnata da una bambina di 4 anni della zona sana e a fianco il disegno appunto di una persona fatto da una bambina della scuola nella zona in cui si faceva l'irrorazione di questo prodotto io non conosco nessuno studio che evidenzi maggiormente che cosa è successo al cervello la parte destra appunto la stessa scuola questi sono i ragazzi 5 anni l'immagine e il disegno a sinistra la zona sana sulla parte destra appunto nella zona in cui c'è questa irrorazione chimica si potrebbe simbolicamente interpretare questa immagine sulla destra si potrebbe vederci uno spermatozoo morente molto brevemente qui qualcuno all'università appunto ha analizzato le ragioni note appunto dell'autismo di questo grande aumento dell'autismo e questi sono ritardanti alla propagazione di fiamma e c'è appunto l'alluminio e questo erbicida il glifosfato il round up famoso sono sempre le stesse sostanze io vedo un'altra bella ricerca qui a chi io ho partecipato e questo è di nuovo uno studio su glifosfosate che appunto indica che il glifosato appunto distrugge tutto quello che c'è di sano in noi in pratica un'altra volta appunto questo nesso questo effetto combinato glifosato e alluminio hanno questa sinergia magica per così dire e sono la vera ragione di depressioni di demenza di di morbo di Parkinson e di appunto di di ansie e naturalmente dell'autismo beh se uno fosse cattivo appunto se voglio veramente mettere in ginocchio l'umanità allora quello che farei è errorare su tutto il vostro alimentazione il glifosato e contaminerei l'aria con l'alluminio e se non basta aggiungerei un po' di alluminio anche ai vaccini ecco in questo modo ce la farò anche a mettere in crisi appunto le vostre funzioni cerebrali e dopo due o tre generazioni portarvi all'estinzione ma quello che mi serve ancora sono determinate frequenze elettromagnetiche anche e ne ho bisogno appunto per fermare i vostri enzimi che svolgerebbero la decontaminazione ecco proprio queste frequenze ci arrivano attraverso i cellulari se fossi cattivo appunto direi beh dietro il tutto ci deve essere un gruppo intelligente di scienziati cattivi e di politici anche ma poiché non lo sono poiché non sono cattivo immagino che si tratta di casualità come fanno la ricerca agli americani adesso devo anche dire che io vivo negli Stati Uniti e il 99,99% degli americani sono persone fantastiche cioè vivono nel loro cuore ma sono molto facilmente sfruttati anche sì forse la popolazione appunto la popolazione più sfruttata e di cui si abusa maggiormente sono gli americani dove ecco poche aziende sperimentano sugli stessi connazionali sugli americani stessi e i politici sono pagati per star zitti